partite in ritardo beautiful fast in vantaggio si porta nabila con all'interno tignoso poi in seconda linea shine diamond lungo la corda prend ancora stai bella dragon force sun blast a largo di tutti ed in coda a qualche lunghezza in segue beautiful fast tignoso ha preso vantaggio a metà gara nei confronti di prend quindi nabila con all'interno dragon force quindi shine diamond stai bella e all'argo di tutti sun blast siamo a 250 dal palo tignoso è sotto l'attacco di dragon force nel tratto conclusivo c'è lotta tra tignoso all'interno e dragon force a largo nel battute finale è tignoso che all'interno mantiene la meglio nei confronti di dragon force poi prend con vicino sun blast per il terzo posto andiamo a rivedere le immagini con salvo basile che è tignoso che hanno mantenuto la meglio fin sul palo dagli attacchi di dragon force numero due dello schieramento quindi sei due e per il terzo posto dovrebbe averla spuntata all'interno il nove di prend quindi sei due nove il probabile e ufficioso arrivo della quarta corsa di napoli